buon pomeriggio a tutti da valerio rossi di vr finanza smart education school e andiamo a vedere subito perché è importante questo tipo di apertura che c'è stato sul mercato americano con il relativo grafico che come vedete parlerà da solo eccoci qua potete vedere in pratica questo flash crash in sostanza perché non si tratta di questo con un vedete con un volume molto alto e mi ha fatto praticamente una una buca fino al 69 416 in maniera veramente così repentina nel giro di una decina di minuti un quarto d'ora massimo ha fatto questo candelone violento probabilmente di qualche fondo qualche whale qualche balena eccetera che ha voluto semplicemente così liquidare le posizioni e portare a casa il recente rialzo come vedete estremamente interessante considerate che che stamattina nel mercato addirittura ha rischiato di toccare quasi 72 mila dollari come come picco massimo come vedete 71 e 8 siamo lì ecco quello che è importante è che nonostante vedete e questa candelona rossa che di questo proprio momento sono esattamente le ore 16 01 del 21 maggio 2024 vedete che la ripresa immediatamente fino qui adesso addirittura tentato un nuovo tentativo di rompere la di correggio arrivasse e adesso e chiaramente sta approcciando invece un con un volume positivo chiaramente molto più modesto della candelata precedente ma con una tendenza come vedete a risalire nuovamente e quali sono le prospettive in nel prossimo futuro spettive rimangono intatte rimangono decisamente positive rimangono soprattutto nel meglio lungo periodo e il prossimo obiettivo verosimilmente che potrebbe essere anche entro fine di questa settimana nonché addirittura entro fine mese diciamo per stare un po più comodi potrebbe addirittura tentare di arrivare fino a 80 mila dopodiché tutti i giochi saranno abbastanza chiari nel senso scusatemi la battuta che verosimilmente ci sarà una posizione sempre più positiva nei riguardi del mercato quindi vedete qui rispetto voglio dire a giorni interi di basso volume a parte qualche piccolo spunto come questo ma i volumi sono importanti perché danno il senso della fiducia ma andiamo a vedere per essere più completi nell'informazione di quello che rappresenta un po non solo bitcoin ma diciamo il mercato di riferimento attraverso i dati che ci propone come Marche K allora la prima cosa che potete vedere è l'indice di fiducia che è ritornato decisamente positivo oltre i 70 70 diciamo in su addirittura 4,72 adesso è leggermente calato ma considerate che nonostante questo flash crash che abbiamo appena visto siamo comunque a una capitazione di mercato intorno ai 1400 miliardi per solamente per bitcoin quindi diciamo che da solo come potete immaginare è importante adesso faccio vedere un'altra comparazione poi torniamo la vedete che bitcoin a 1404 miliardi di capitalizzazione e a 400 miliardi da dall'argento quindi direi che è molto importante e poi immediatamente vicino alla capitazione di amazon sicuramente diciamo ne ha fatta di strada ne ha fatta di strada addirittura era molto molto più in basso addirittura oltre il ventesimo posto non più di un anno e mezzo fa per cui considerate la crescita che c'è stato di interesse complessivo nei riguardi di bitcoin in particolare del mondo del pettovaluto e nel suo insieme ecco quello che è importante da questo punto di vista possiamo guardare è quello che sono anche un altro fenomeno che si è prospettato proprio oggi e che è ethereum che mi ha fatto un balzo pazzesco nell'ultimo 24 ore del 22 per cento e con un 30 e 52 su base settimanale addirittura è andato anche oltre 3.800 dollari stamattina e anche solana come vedete ha ripreso il suo trend positivo era già andato a oltre 183 però ovviamente questo l'apertura americana ha un po' portato diciamo un po' di vendite abbastanza diffuse nel mercato però vediamo tutto un verde diffuso addirittura doppie cifre come potete vedere bitcoin cash è più 27 nell'ultima settimana più 36 uniswap ethereum class in più 25 più 20 notable 5 coin più 14 per cento le graph più 28 per cento ce n'è veramente per tutti i gusti e quello che è importante come potete vedere è la dominance la dominance del 53 cioè continua a aumentare diciamo quello che è la prevalenza di interesse nei quali bitcoin e anche ethereum finalmente è salita oltre al 17 per cento qui ci sta diciamo nelle prime due più o meno i tre quarti del mercato il resto sicuramente potete anche vedere semplicemente ethereum e tether che non è altro che la stable coin in un sdt nel dollaro digitale ma vedete che da binance coin a ethereum c'è più o meno ci sono cinque volte di cinque volte tanto la capitalizzazione di binance coin rispetto a ethereum solana è subito lì e poi c'è ancora usdc che è l'altra stable coin ripple che decisamente più bassa dogecoin torcoin cardano eccetera eccetera e quindi direi che la cosa straordinaria così è questa di riuscire a comprendere diciamo profondamente di quello che è ovviamente vedete ecco adesso ci sono come vedete un piccolo spunto serve interessante per te lo seguire insieme a voi nel prossimo tempo però non voglio dilungarmi troppo con questo video l'era importante una un aggiornamento quello che è importante eccolo qui siamo comunque decisamente sopra i 70 mila dopo aver fatto questa prova di paura diciamo così nei riguardi qualcuno che recentemente qui esattamente l'undici di di maggio se guardate vedere il mio video grazie alla segnalazione di un di un portale di un gruppo che seguo americano esattamente l'undici maggio eccolo qui eravamo qui eravamo 60 mila nel video eravamo 60 mila 362 esattamente siamo 70 mila 700 quindi sono addirittura 10 mila 10 mila dollari per bitcoin o comunque per frazione di bitcoin che uno che avesse seguito non certo il mio consiglio ma di persone certamente più capaci più bravi di me che analisti che ho semplicemente riproposto come possibile chiaramente io non vendo nulla non mi occupo di promozione finanziaria ma solo sicuramente di formazione perché dalla conoscenza ognuno di noi mai compreso possiamo fare il salto di qualità e sempre di differenza proprio un salto culturale che diventa sempre più importante capire comprendere e comunque così evolversi dal punto di vista proprio di sistema che bitcoin ha sempre proposto e continuerà a proporre ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio ci sarà qualche ulteriore caduta o rialzo ovviamente io ci sono mi farà piacere così condividere queste informazioni importanti e se avete bisogno di una un'assistenza un supporto e soprattutto di formazione sono a molte disposizioni qui trovate tutti i miei recapiti grazie di nuovo a presto